In occasione della visita del Ministro per la disabilità Alessandra Locatelli, avvenuta nella giornata di domenica presso Casa San Filippo, al termine del convegno sul tema e l'incontro con le diverse realtà locali, il Direttore del Parco Roberto Ciarratta ha voluto mostrare i percorsi che la stesso ente ha realizzato nel tempo per i disabili nell'ambito del progetto di accessibilità messo in campo alcuni anni fa e che oggi vede quasi la sua completezza, innanzi ovviamente al Tempio della Concordia. Soddisfatto è il Ministro Locatelli per l'opportunità di visitare la valle notturna, esprimendo il suo compiacimento per quanto realizzato, tale da poter permettere a tanta gente che è versa in condizioni di disabilità di potersi recare presso la valle a visitarla. Stiamo alla Valle dei Templi, dietro di noi il maestoso Tempio della Concordia, stiamo percorrendo la valle all'interno di quel progetto di accessibilità che abbiamo messo in campo alcuni anni fa e che oggi vede la sua quasi completezza, siamo con il Ministro Locatelli per la disabilità e stiamo percorrendo la valle, stiamo discutendo di quello che sono i problemi che riguardano il mondo dell'accessibilità a 360 gradi, che non riguardano solo l'accessibilità motoria o la uditiva, ma che riguardano l'accessibilità cognitiva, sensoriale e molte cose ne sono state fatte, molte ne abbiamo da fare, questo sempre per garantire la valle e i luoghi della cultura accessibili a tutti, non con una particolare dedizione rispetto al visitatore, ma rispetto all'uomo che è una persona che ha delle diverse metodologie di approccio e noi da questo punto di vista dobbiamo rendere tutti uguali. Grazie direttore per questa opportunità straordinaria, io penso che poter visitare la Valle dei Templi peraltro in notturna sia meraviglioso, una grande opportunità per tutti peraltro e questo è straordinario, un grande orgoglio penso per Agrigento, per la Sicilia, ma davvero per tutto il paese, ecco perché sono qui per dire che davvero in questo luogo possono arrivare tutti e capisco anche che ci sono tante sfide anche per il futuro aperte, quindi è iniziato un percorso che davvero porterà la Valle dei Templi e la provincia di Agrigento a essere conosciuta da tante famiglie anche che con persone care che magari hanno una difficoltà motoria, una disabilità anche sensoriale o intellettiva, vorranno visitare la Valle dei Templi. Un'opportunità straordinaria devo dire però anche facilitata non solo per le persone con disabilità ma anche per magari le mamme con le carrozzine, le persone anziane, un percorso anche in tutta sicurezza che può essere accompagnato, questa è una cosa straordinaria, faccio i miei complimenti al direttore ma anche a tutto lo staff, davvero una squadra importante. Grazie.